Scontro frontale ieri notte fra due auto ad Agropoli. Tre le persone ferite nell'impatto avvenuto in località Madonna del Carmine. Ad avere la peggio una 29enne residente ad Albanella che è stata ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale di Vallo della Lucania per via dei gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso della Croce Azzurra e i carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno effettuato i rilievi del caso e provato a ricostruire la dinamica del sinistro.